Tra le libertà soppresse durante il ventennio fascista vi è anche la libertà sindacale, quindi la libertà di organizzare in maniera autonoma e indipendente la rappresentanza del mondo del lavoro. Nel 1937 Gaetano Salvemini descrive in maniera molto puntuale, a mio parere anche con immagini molto suggestive, l'organizzazione di queste realtà facendo molta chiarezza in proposito e ne leggerò quindi un breve estratto. Il titolo di saggio è Italian Trade Unions Under Fascist. Nello stato fascista le grandi aziende sono parte attiva e gestiscono le associazioni datoriali. I piccoli imprenditori, lavoratori, dipendenti ed i professionisti sono invece parte passiva, soggetti a qualunque cosa i funzionari ritengono opportuni. Nelle organizzazioni fasciste, di fatti, piccoli imprenditori, lavoratori e classi professionali non hanno più potere di quanto ne abbiano gli animali nelle associazioni per la protezione degli animali. Questo è un punto fondamentale per comprendere il sindacalismo nello stato fascista. Gli estimatori del fascismo però hanno cura di non dare mai informazioni concrete su questa fase. Se leggete la lezione di Aims and Policies of the Fascist Regime in Italy, che fu consegnata all'Università della Virginia nel 1934 ed ebbe la prefazione del presidente della Columbia University nella pubblicazione della Carnegie Endowment for International Peace, imparerete che ogni membro di un'organizzazione vota per eleggere l'organo direttivo. Leggete anche il libro recente del professor Schneider della Columbia University, The Fascist Government of Italy, e imparerete che i sindacati sono autogestiti e che costituiscono l'unico esempio in Italia di elezioni e uffici provenienti dal basso invece che dall'alto. Entrambe le afformazioni ignorano un fatto fondamentale, la completa soppressione della libertà d'azione dei membri della base nei sindacati fascisti. Una volta che ci siamo fatti un'idea chiara delle organizzazioni e dei loro funzionari, possiamo comprendere appieno cosa significa che tutti i contratti riguardanti salari, orari di lavoro, eccetera, vengono definiti da queste organizzazioni e che sono vincolanti per tutti, aderenti o meno. Quei contratti vengono definiti da uomini di fiducia, dei grandi imprenditori e da funzionari nominati dall'alto per controllare i sindacati dei lavoratori. I membri dei sindacati non hanno voci in capitolo. Se qualcuno è soddisfatto, si permette di brontolare, viene espulso, così che tutti i membri che arrestano al suo interno saranno soddisfatti. I scioperi sono vietati e sono puniti da una serie di sanzioni severe e progressive con una pera massima di sette anni di prigione. Nel luglio del 26, circa 1.400 lavoratori, la maggior parte donne, scioperarono in una fabbrica a carosia vicino Genova. Da quando i fascisti hanno preso il sopravvento, dichiarò una di queste donne, noi siamo isolati e senza leader. I datori di lavoro hanno colto l'opportunità per ridurre le nostre retribuzioni di circa il 40%. Alcune delle donne, sospettate di essere leader dello sciopero, furono condannate a sei mesi di prigione. Le serrate, da parte dei datori di lavoro, così come le scioperi sono vietate. I fascisti sostengono, infatti, che il capitale venga così messo sullo stesso livello del lavoro, ma laddove non ci sono scioperi. Le serrate diventano semplicemente non necessarie. Inoltre, mentre gli uomini vengono costretti ad andare a lavorare, con la minaccia di andare in prigione, la legge non può costringere un imprenditore a dar lavoro se dichiara che non può sostenere determinati livelli salariali. L'interruzione non è quindi una serrata, ma una chiusura indotta da un giustificato motivo. Quando le associazioni datori reali e i funzionari che gestiscono i sindacati non trovano un accordo alla Corte del Lavoro a decidere, sia per i contratti in corso che quelli in discussione, la Corte si compone di un giudice e due esperti, entrambi laureati. In questo modo, i lavoratori vengono automaticamente esclusi. I fascisti giustificano l'abolizione del diritto di sciopero con il teorema seguente. Lo Stato non è più Stato, vale a dire che non è più sovrano, se non è capace di trovare un accordo giusto nei conflitti tra le classi sociali e le categorie, proibendo loro di esercitare una giustizia privata, così come è proibito per singoli individui o famiglie. Ma chi è lo Stato nelle dispute del lavoro? Nello Stato corporativo ritroviamo, al gradino più basso, gli uomini di fiducia dei grandi datori di lavoro e di funzionari nominati dall'alto a gestire i sindacati dei lavoratori. Sul gradino più alto, i giudici e gli esperti delle corti del lavoro. I lavoratori non hanno rappresentanza reale in nessuno dei due anni. Lo Stato finisce dunque col diventare classe datoriale. Nel sistema corporativo fascista, sei proprietario della tua terra, della tua fabbrica, del tuo gregge, delle tue scarpe, ma non sei proprietario del lavoro manuale. Se il lavoro è tutto ciò che possiedi, quel lavoro non appartiene a te.